Le foto più inquietanti che esistano. Il 27 febbraio del 2015, questo ragazzo andò a fare un'escursione alla Hawaii e scomparve nel nulla. Durante la scalata, il ragazzo inviò diverse foto alla sua famiglia, fra le quali c'era anche questa. Guardate attentamente, se zoomo in questa direzione, potete vedere che c'è un uomo e sembra che stesse inseguendo un ragazzo. La polizia cercò di identificare l'uomo, ma senza successo. Il ragazzo risulta ancora oggi scomparso nel nulla. Questa foto venne scattata alle 3 del pomeriggio del 15 agosto del 1998. E pochi secondi dopo che venne scattata, una bomba venne fatta esplodere in questa auto rossa. Il padre e il bambino sopravvissero, il fotografo e altre 28 persone morirono e altre 220 rimasero ferite. Questa è una figurina del giocatore di basketball Mark Jackson. Questi due ragazzi sullo sfondo sono i fratelli Menendez. Poco tempo dopo aver ucciso i loro stessi genitori nella loro villa di Beverly Hills.